Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, questo è un nuovo video, io sono Mr. Mario e oggi siamo tornati su Crash Royale, non per giocare, questo è un mini 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 video Dove andremo? Sì questa è la mia mano Saluta Comunque siamo qui per aprire l'offerta del baule magico, cosa ci troveremo? Il mastino? Il drago infernale? Sicuramente no Comunque potete subito notare che questo è il mio account, c'è la mia cosa, comunque non ho sembrato da donare l'unico mini pecca che mi serviva per fare la 4 Ma forse possiamo essere tanto fortunati da trovarlo ancora nel baule magico Proseguiamo l'apertura Ok ragazzi, apriamo il baule magico, 393 di oro, 3 goblin, 4 frecce, un cannone, non troviamo niente Non ci voglio credere Non ci sto credendo Ragazzi là dentro ci doveva essere la leggendaria La leggendaria ci doveva essere la leggendaria, la leggendaria ci doveva essere là dentro La leggendaria Non quello, la leggendaria Sì Comunque, vabbè, abbiamo sbloccato l'orda di scheletrini Sì, visto che abbiamo un bel po' di gemme, 118 per l'esaltezza Chiamate un'ambulanza La battuta non fa ridere Apriamo i due bauli d'oro È epica Nooo No, con sti troll E dai Abbiamo la Valkyrie a livello 3 adesso Gli sgherri a livello 5 Appiamoci l'altro Vediamo 118 Oh, siete fissati però Supercell con questo 118 Cosa volete? Ci abbiamo la rara Due cose a caso Vabbè Stavolta non abbiamo trovato proprio tanto Però ci possiamo fare i goblin al 5 Certo che col baule magico 2 epic C'era la leggendaria là dentro Comunque adesso Adesso che non abbiamo trovato la leggendaia Possiamo sapere che Possiamo usare quel trucco là Quasi quasi sai cosa Tac Tac Vediamo la prossima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti